sono state sollevate domande sul fatto che la persona più anziana ad accedere al trono possa abdicare in particolare con il principe william di 40 anni che aspetta dietro le quinte l'età di re carlo pone la sfida più grande al suo regno poiché la prospettiva di una grave fragilità di un monarca che invecchia solleva la questione dell'abdicazione scioccante dell'attuale re ha detto uno storico carlo terzo è adatto a essere re nonostante sia la persona più anziana ad accedere al trono secondo l'autore reale ma jeremy black ha detto a express che c'è una questione cruciale per la famiglia reale britannica di cui re carlo è a capo punto punto la questione sorge dopo che carlo divenne automaticamente re all'età di 73 anni in seguito alla morte di sua madre la regina elisabetta seconda black ha detto c'è una domanda per la famiglia reale la prossima volta che avranno un monarca molto anziano abdicheranno o no si potrebbe sostenere che questa è la loro più grande sfida come affrontare la possibilità di una grave fragilità il signor black ha aggiunto che fortunatamente questo non è stato un problema con la defunta regina che è stata in grado di svolgere compiti ufficiali fino alla fine della sua vita punto l'autore di a brief history of the british monarchy ha detto il re potrebbe avere qualche idea su quanto tempo può andare avanti ma non ne parlerà in pubblico perché ciò diminuirà il suo valore costituzionale se dici andrà in pensione la gente ti presta meno attenzione per anni prima della morte della defunta regina elisabetta seconda si è speculato sul fatto che avrebbe dovuto lasciare il posto al figlio maggiore ed erede se lo stesso carlo dovesse abdicare il principe william come il prossimo in linea di successione al trono diventerebbe re con kate principessa del galles che diventerebbe regina